bella rara iscrivetevi al canale youtube frangami 21 oggi ci mandiamo a live questa qui questa oggi vi faccio vedere come smontare questa piccola per te che sapete fare a te senza chiave solo quelle che abbiamo in casa come tina via john gris e quelle che abbiamo in casa solo quelle che abbiamo in guasta no quelli che sono a vicina raga che vi faccio vedere in base raga a me non mi mancano le chiave però io io voglio fare un video farete in base guardate non mi mancano le chiave c'è tutto però questo video farò per voi quelle che hanno tutte queste chiave ci sono chiave solo queste chiave soli chiave interessate che dico raga sono quelle che potete potete rispondare voi che dico raga mettiamo i video bella raga guarda le mondavuosa bici facciamo la mano bella raga guarda le chiave soli e che si è piaciuto che si è piaciuto che si è piaciuto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti